Da un eccesso all'altro, l'Ambrosia Biceglie passa dalla bulica prestazione di martedì scorso quando ha ceduto al Palermo in gara 2 delle semifinali play-off di Palacanestro alla travolgente prova di ieri sera in terra siciliana, riprendendo quel vantaggio che sembrava scontato dal fattore campo e dai valori di classifica al termine della stagione regolare. Non tragga in inganno il punteggio finale di 81 a 70 in favore dei Nerazzurri perché la squadra di Pasquale Scocci-Marro ha toccato anche un massimo vantaggio di 31 lunghezze nel corso di gara 3. Palermo viene tramortito subito con un parziale di 20 a 2 in 6 minuti che piegherebbe anche un cavallo e quando l'Ambrosia sale sul 44 a 13 sul finire del secondo quarto si ha la certezza che la squadra è tornata, quella ammirata, in tutto il girone di ritorno. Difesa Arcigna che concede appena 4 tiri su 21 tentativi da 3 punti ed un attacco dalla precisione chirurgica, soprattutto dal pelimetro con un 50% di realizzazioni nei primi due quarti che scavano la voragine con i siciliani. E Torresi a guidare la riscossa dei Bicegliesi con i suoi 24 punti ma in doppia cifra si issano anche Corral, Stella e Cena mentre i soli Cozzoli e Riziello per Palermo non bastano ad arginare la rabbia dell'Ambrosia. La serie di semifinale torna a colorarsi di Nerazzurro con la possibilità, in caso di sconfitta domani sera in gara 4, ancora a Palermo di giocarsi l'accesso alla finale mercoledì sera al Paladolmen. Ipotesi che potrebbe anche svanire se Biceglia ripetesse quanto fatto vedere. Venerdì sera